Ciao a tutti, allora qualche mese fa ho scoperto la saga del Trono di Spade e l'ho scoperto per caso perché ho visto il promo della quinta stagione, per dire la serie televisiva sono già producendo la stessa stagione ed è prodotto dalla HBO che è un canale inglese credo e da lì poi il mese scorso ho iniziato a leggere libri e me ne sono innamorata per chi non lo conoscesse allora i libri sono scritti da George Martin ed è una saga fantasy ambientata soprattutto in un continente che si chiama Westeros e in parte nell'altro continente che si chiama Westeros e mi piace tantissimo perché è molto, come si può dire, cioè dinamico nel senso succede una cosa dopo l'altra, molto calzante e mi piacciono i personaggi, alcuni di più, altri non mi piacciono ma comunque sono tutti ben descritti e allora i miei personaggi, quelli che mi piacciono di più sono in generale gli Stark quindi mi piacciono, allora i Lannister no, li odio proprio, l'unico che mi piace è il Folletto perché veramente spacca il Folletto, veramente, secondo me è uno dei personaggi meglio riusciti della saga ma in generale anche Joffrey, cioè, è talmente riuscito bene che almeno io non riesco a non odiarlo talmente fatto bene e poi l'altro personaggio che mi piace di più è Daenerys non ho visto la set tv ancora e non so bene la pronuncia e se l'avete visto ditemi cosa ne pensate nei commenti e quali sono o chi è il vostro personaggio preferito o preferiti se vi va lasciate un like e condividete vi lascio anche qua sotto nell'info box i link delle pagine in cui potete seguirmi noi ci vediamo alla prossima, ciao!